Buongiorno a voi tutti che state guardando e ascoltando questo video e un particolare saluto con affetto e nella preghiera alle persone che vi sono care. Oggi la liturgia ci propone il brano del Vangelo del capitolo quinto di San Giovanni, versetti dal 31 al 47 che vi invito a leggere se potete così che abbiate un diretto contatto con la scrittura e non solamente attraverso la mia mediazione. Non vi nascondo che questo testo oggi mi ha interpellato in modo quasi pungente perché tra le sue righe penso si possa dare una lettura della nostra realtà culturale. Che cosa accade? Vi viene una sorta di incomprensione tra Gesù e i suoi contemporanei, i quali in questo tratto del racconto di San Giovanni sono un po' uno spaccato, un esempio di quella che è la fragilità umana. Perché? Dove sta l'incomprensione? Qual è l'oggetto di questa incomprensione? In realtà è un duplice motivo di questa incomprensione. è data dall'incapacità di quegli uomini di riconoscere e accettare e credere la divinità di Gesù e la sua capacità salvifica. Gesù dal canto suo prova a chiamare a testimoni Giovanni Battista, la scrittura, le opere che lui stesso compie, il rapporto intimo con il padre, ma questi non sono sufficienti, motivi non sufficienti affinché quegli uomini lo credano Dio. Dove sta il motivo di questa incomprensione? Per poterlo capire bisogna che andiamo a cogliere quello che credo si possa definire il male radicale della natura umana che è dato dalla volontà o dal tentativo di cercare la verità della nostra esistenza solo nella nostra identità. Cioè nel tentativo di credere esaustiva la nostra identità, quello che siamo, per cercare di capire chi siamo e dove siamo destinati. Noi siamo bravi a far tante cose, noi siamo capaci a raggiungere grandi traguardi, ma alcuni limiti non li supereremo mai. Uno su tutti la morte. Noi oggi stiamo, noi in questi giorni stiamo andando sui balconi a cantare, facciamo manifestazioni sui social di Unione per dire che ne verremo fuori da questa lotta contro quella che penso sia quello che sia il vero nostro antagonista, ossia la paura della morte. Ne verremo fuori, ma non dimentichiamo che saranno vittorie parziali perché alla fine poi noi moriremo ancora e ci occorrerà comunque qualcuno che sia più forte di noi e delle nostre vittorie parziali. Questo qualcuno è Dio, questo qualcuno è Gesù nella sua azione risanatrice attraverso la sua risurrezione. L'Evangelio di oggi quindi è come se ci invitasse a credere che Dio vuole aiutarci a superare le nostre vittorie parziali, o meglio che non siano solamente parziali. Grazie.